Siamo sempre nell'edificio della TCRI ragazzi, ora c'è un problema grosso, dobbiamo sconfiggere e affrontare di nuovo Armagon, questo squalo mutante. Armagon l'avevamo affrontato nel quinto livello, adesso anche Armagon farà la sua seconda figuraccia. Prima perde nelle fogne e adesso viene eliminato da noi in questo edificio della TCRI. State attenti a non cadere nell'acqua viola perché è contaminata, perché se la toccate poi vi trasformate in zombie. Vi ho sempre detto che Armagon c'era in Tournament Fighters, ma adesso qui è da affrontare per la prima volta come un boss e poi quando esce fuori dall'acqua sputa quella cosa viola e non so cosa sia. Un'acqua contaminata. Certo come fa a essere un pesce fuori d'acqua Armagon. Occhio che arriva Gabri Costa. Armagon deve prepararsi a essere battuto. Forza, rimettetevi in sesto. No, abbiamo bisogno di aiuto a volte. Non so se vinceremo di nuovo. Togliti di mezzo brutto pesce cane. Ora rispaccherò la faccia a questo squalo. Gli strapperò tutte le pinne e la coda. Dai che stiamo vincendo di nuovo. Ricordatevi che Rocksteady e Slash sono già stati eliminati. Bene, e abbiamo sconfitto di nuovo Armagon, questo sprecevole squalo mutante. Siamo già a tre perdenti ragazzi. Questi vanno affrontati tutti prima del generale Krang. Bene, io vi saluto. Mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Anche per questa volta. Grazie a tutti.